Alex Belli contro Massimiliano Varrese Sta letteralmente diventando un caso lo scontro fra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese Con l'attore toscano al centro dell'attenzione e delle polemiche per alcune frasi che ha detto Come abbiamo visto anche ieri sera lo stesso Alfonso Signorini ha stigmatizzato molto queste frasi del concorrente invitandolo a toni più dimessi e facendogli presenti che a causa di alcuni fatti accauti in Italia certi toni che lui usa nei confronti di Beatrice Luzzi, non sono assolutamente visti di buon occhio. Oggettivamente abbiamo osservato il dopo grande fratello e sinceramente non sembra che Massimiliano Varrese abbia sotterrato l'ascia di guerra verso Beatrice Luzzi e viceversa. La stessa concorrente romana nella notte ha di nuovo manifestato la volontà di andarsene perché esasperata dalla situazione che si è venuta a creare proprio con l'attore romano. Insomma siamo veramente molto vicini al punto di non ritorno. Poi oltretutto la stessa Beatrice Luzzi ha avuto pesantemente da ridire con altre concorrenti che sono Rosanna Fratello appena entrata e Sara Ricci entrata da due settimane, ma che in ogni modo con la quale si conoscevano da molto tempo, in quanto entrambe hanno recitato nella fiction vivere. Ma a prendere le difese di Beatrice Luzzi è stato Alex Belli. Il concorrente è stato protagonista del Grande Fratello 5 dove era presente con la moglie e solei sorge c'è andato veramente giù molto pesante con Massimiliano Varrese. In questo momento molti fans della Beatrice Luzzi invocano il suo ingresso nella casa per un confronto proprio con l'attore toscano del quale ha detto. È troppo da codar di prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori luogo. Ci vorrebbe un bel uomo alfa per farlo tornare con i piedi per terra. Fly Down Man. Iscriviti al comfortable con le spremi. Vijay. Pofiare. Grazie.